Dunque, io direi poche cose, perché già sono state dette, ma soprattutto vorrei sottolineare che l'acquiglienza è fatta dalla nostra comunità parogiale, che significa dalla nostra città. Quindi è una realtà che ci appartiene, non appartiene a un gruppetto, a un'elite, a un gruppo, a un'associazione, ma appartiene a tutta la comunità cittadina e questo è importante, tanto che io sostengo da tanto che si faccia un'attività insieme con il comune proprio per questi ragazzi che da tempo richiedono di poter essere utili e di contraccambiare, come loro possono, a quello che gli è stato dato. E devo dire che gli è stato dato molto dalla nostra città, sia da un punto di vista di vicinanza delle associazioni presenti sul territorio, sia da un punto di vista anche proprio della popolazione che con semplicità, con gratuità, si è resa disponibile per tutti i grandi e piccoli servizi che loro necessitano. E questo devo ringraziare tutto il Paese di Montevarchi, a partire di Darsina per tutta la Giunta. Quello che loro potranno fare è chiaramente un segno, non è che risolveranno grandi problemi, però questa loro presenza è una presenza che ci stimola a sentirci comunità, sentirci chiesa, sentirci nella minima strada che il nostro Papa Francesco ha ormai indicato da tempo, che è quella dell'apertura e non della chiusura, dell'accoglienza, della condivisione, del Carlo Mariccio. Grazie.